Ben ritrovati gentili telespettatori con il telegiornale del Nord-Est e del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale. E proprio oggi iniziamo dal Friuli Venezia Giulia perché a Fiume Veneto si è verificato l'ennesimo incidente sul lavoro dove un 69enne è stato colpito alla testa da una benna. Ascoltiamo il servizio. Drammatico incidente sul lavoro nella giornata di oggi a Fiume Veneto dove un uomo di 69 anni è morto in seguito ad un incidente avvenuto mentre era impegnato nella sistemazione di un ponteggio. Il tragico evento si è verificato in via Kennedy presso un noto allevamento di animali da cortile. La vittima, un lavoratore assunto da una ditta esterna, stava operando su un camion che lui stesso stava manovrando quando è stato colpito alla testa da una benna in movimento. Secondo le prime informazioni l'uomo sarebbe poi stato sbalzato dalla cabina finendo a terra e perdendo la vita sul colpo. Nonostante l'attivazione immediata dei soccorsi da parte dei colleghi e del personale dell'allevamento per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto a causa del grave trauma cranico riportato. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che ora sono incaricati di ricostruire la dinamica dell'accaduto e di verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Una donna di 85 anni è rimasta ferita questa mattina dopo essere stata presa a pugni mentre passeggiava con il cane da uno sconosciuto che poi è fuggito. L'anziana è stata notata a terra insanguinata da un passante che l'ha aiutata e ha allertato i soccorsi e la polizia. Inizialmente sembrava che l'anziana che è stata portata all'ospedale di Cattinara fosse stata vittima di un tentativo di rapina ma successivamente si è compreso che l'aggressione non aveva alcun motivo. Proseguiamo. Alle ore 10 di questa mattina i vigili del fuoco hanno operato nell'autostrada 4 tra gli svincoli di Sandonà e Cessalto in direzione Trieste per un tamponamento fra tre mezzi pesanti, due i feriti. I vigili del fuoco arrivati da Motta di Livenza, Sandonà e Treviso con l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalle cabine di guida utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici i due autisti rimasti incastrati al posto guida. I due feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM e trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'A4. In corso la rimozione dei mezzi. Continuiamo con il telegiornale. Verso in gravi condizioni un uomo di 50 anni che questa mattina è stato investito nei pressi della stazione delle Corriere di Gemona del Friuli. Le cause di quanto è accaduto sono ancora al baglio delle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto verso le 7.55 in un momento di intenso traffico. Sul posto un'ambulanza e un elicottero dell'elisoccorso. A causa dei trami subiti il 50enne è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Sul luogo anche i carabinieri di Tolmezzo. E ancora un altro incidente, a Maron di Brugnera. Alcune persone sono rimaste intossicate da una sospetta esalazione da monossido di carbonio questa mattina in un appartamento in via Mazzini a Maron di Brugnera. Sul posto hanno operato tre ambulanze inviate dalla centrale operativa Sores del Friuli Venezia Giulia, supportate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone, ai cui periti sono state anche affidate le indagini per risalire alla causa dell'incidente. Forse un impianto di riscaldamento malfunzionante. Secondo quanto si è appreso, una persona è in gravi condizioni. Una seconda ha sintomi leggermente meno acuti, ma comunque è grave. E altre hanno accusato solo problemi lievi. Un altro incendio invece si è verificato a Mortegliano. Alle ore 12.40 circa di oggi, due squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Codroipo, supportate dall'autoscala giunta dalla sede centrale del comando friulano, sono intervenute a Mortegliano per l'incendio del tetto in legno di una cassetta di due piani fuoriterra. L'incendio si è sviluppato durante dei lavori per l'isolamento del tetto e gli operai che stavano lavorando hanno immediatamente chiamato i soccorsi, avvisato i proprietari, che si trovavano all'interno dell'abitazione, e hanno iniziato a distinguere le fiamme con una tubazione in gomma per annaffiare il giardino. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di spegnimento, verificando anche che nelle parti linee interessate dall'incendio covasse ancora qualche focolaio nascosto. L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza del tetto e con un controllo strumentale nell'alloggio per verificare che nelle stanze non vi fosse la presenza di gas resivi della combustione. Proseguiamo. I carabinieri della stazione di Sacile hanno deferito in stato di libertà un 31enne architetto per reato di furto di beni culturali. Il fatto risale al 12 dicembre dello scorso anno, quando il titolare della Virtual Geo SRL, società multidisciplinare che opera nel settore della geomatica e della comunicazione, denunciava che dal suo ufficio era sparito il quadro denominato Acrylic on Canvas dell'artista indonesiano Archiv Vilmansa, del valore di 6.000 euro. Dal sopralluogo effettuato dai militari dell'arma non erano emersi segni di infrazione a porte o infissi, dato che faceva premurare che il ladro avesse copia delle chiavi. Indagato in questa direzione, i carabinieri di Sacile hanno orientato l'attenzione su un ex collaboratore della ditta, che aveva avuto diversi problemi durante il rapporto lavorativo con l'azienda. Rapporto conclusosi tra l'altro con dei contenziosi aperti. L'ipotesi investigativa era giusta. La perquisizione richiesta e concessa dal sostituto procuratore della Repubblica di Pordenone, dottor Marco Fayon, eseguita nell'abitazione del professionista residente in provincia di Treviso, permetteva di rinvenire e porre sotto sequestro il quadro raffigurato. L'architetto è stato quindi deferito alla procura di Pordenone per il reato di furto di beni culturali e il quadro è stato restituito al legittimo proprietario. Durante i controlli effettuati nei giorni scorsi nei comuni della Carnia, i finanziari della compagnia di Tolmezzo, il personale del corpo del distretto di polizia locale della comunità di Montagna della Carnia e quello del comune di Fontana Fredda sono stati impegnati in diversi controlli, volte il rafforzamento della sicurezza stradale. Sono state elevate numerose contestazioni al codice della strada, fra le quali spicca quella riguardante un cittadino italiano quarantenne residente in comune di Tolmezzo sprovvisto di patente, perché mai conseguita, alla guida della sua vettura, priva di copertura assicurativa e mancante della prevista revisione. Numerosi sono gli incendi che si verificano su strada con vetture prive di copertura assicurativa, nonché a seguito di comportamenti posti in essere da utenti che guidano sotto effetti di sostanze stupefacenti o di alcol. Il costante impegno delle forze di polizia impiegate nel territorio, sia per la prevenzione che per la repressione di tali condotte, contribuisce a rafforzare il senso di sicurezza degli utenti sulla strada. Andiamo avanti. Udinese Napoli, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania. Sentiamo il servizio. Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della regione Campania, nonché l'incendibilità del titolo per assistere al match, in occasione dello svolgimento dell'incontro Udinese Napoli, previsto per la sera di lunedì 6 maggio al Blue Energy Stadium. La decisione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha osservato che l'incontro di calcio di Serie Udinese Napoli è connotato da elevati profili di rischio in ragione dei gravi episodi accaduti a Udine in occasione della partita disputata il 4 maggio dell'anno scorso, quando i pratenopei vinsero a Udine matematicamente lo scudetto. Va però considerato che il Napoli ha un largo seguito in tutte le altre regioni d'Italia. Una presenza consistente di napoletani si verificherà comunque, dopo l'attività investigativa svolta dalla Digos, a seguito degli incidenti verificatosi allo stadio Friulidi, il questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha emesso al momento complessivamente 38 d'Aspo, 16 nei confronti di appartenenti alla tifoseria locale, che sono responsabili di scavalcamenti, invasioni di campo, possesso di oggetti atti a offendere e risse, mentre altri 22 nei confronti dei tifosi del Napoli per possesso e lancio di materiale pericoloso, scavalcamenti, invasioni e risse. I provvedimenti adottati oscillano dall'anno e mezzo di divieto ai 10 anni e nei casi più gravi sono stati accompagnati dall'obbligo di presentazione negli uffici di polizia in concomitanza con gli incontri di calcio della propria squadra. Si tratta di 4 tifosi dell'Udinese e 3 tifosi del Napoli. Individuato e sottoposto ad Aspo anche il tifoso ospite che era riuscito a introdursi abusivamente negli spogliatoi dei giocatori a fine gara, approfittando della confusione in mezzo al campo durante i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. Ulteriori 12 casi sono tuttora in fase istruttoria e riguardano esponenti di entrambe le tifoserie. Proseguono inoltre le indagini al fine di individuare tutti i responsabili delle condotte illecite, commesse in occasione dell'incontro. Carenza di personale. Dichiarato lo stato di agitazione alla neurochirurgia di Cattinara. Lo hanno dichiarato le segreterie territoriali di Trieste e delle organizzazioni sindacali FP-CGL, FIAS e CISL-FP dopo l'assemblea dello scorso venerdì 26 aprile. Sentiamo il servizio. Con una lettera inviata al prefetto dell'Asugi e alla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, le segreterie territoriali di Trieste, FP-CGL, FIAS e CISL-FP, dopo l'assemblea dello scorso venerdì 26 aprile, alla quale erano presenti più della maggioranza del personale afferente alla struttura complessa di neurochirurgia, hanno dichiarato lo stato di agitazione. Così una nota congiunta delle sigle deriva dalla carenza di personale infermieristico e di operatori sociosanitari. Situazione più volte segnalata alla direzione della professione sanitaria, ma mai risolta. Infatti nel tempo sono stati adottati solo provvedimenti tampone, con le assegnazioni temporanee di infermieri e OS provenienti da altri reparti che, prosegue la nota, non conoscono le complessità assistenziali richieste dai pazienti ricoverati presso la neurochirurgia e quindi non possono svolgere la loro attività in piena autonomia. Le sigle ricordano che il personale si è reso sempre disponibile a sopprire alle mancate coperture dei turni con innumerevoli richiami in servizio. È stato riscontrato che a volte gli orari di lavoro sono ai limiti delle norme di legge e contrattuali. Questo al fine di garantire alle persone ricoverate un'assistenza il più possibile adeguata. Ma il personale non ce la fa più a fare tanti turni aggiuntivi. Un'ulteriore preoccupazione che prosegue la nota, gli operatori hanno manifestato riguardo l'imminente inizio delle ferie estive che inevitabilmente, in assenza di assegnazioni di personale o di interventi organizzativi, aumenteranno il numero di operatori assenti e di conseguenza i turni scoperti. Sono arrivati nella notte Trieste otto bambini palestinesi da Gaza insieme con le famiglie. Cinque di questi riportano ferite di varie entità e amputazioni. Tre invece sono affetti da gravi patologie. I piccoli verranno curati al burlo garofalo per poi trovare accoglienza in alcune famiglie e da religiose in Friuli Venezia Giulia. A rendere possibile questa operazione è stata la ONG inglese Save the Children guidata da Sally Becker, organizzazione con cui collabora Marina Ondolina, ex pediatra del burlo in pensione, che con la ONG è andato in vari teatri di guerra, incluso l'Iraq, ai tempi dell'Isis. Termina qui la prima parte del telegiornale del Nord-Est. Ora una piccola pausa pubblicitaria. Ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati in studio, gentili telespettatori. Andiamo avanti con il telegiornale. È tutto pronto per l'evento nazionale di domani in Friuli Venezia Giulia del primo maggio. In piazza sono attesi anche musulmani e bengalesi. Ascoltiamo il servizio. Il Friuli Venezia Giulia è pronto per l'appuntamento. Domani infatti arriveranno i segretari generali dei sindacati, poiché Monfalcone, vent'anni dopo, Gorizia e dieci anni dopo Pordenone, ospiterà l'evento nazionale del primo maggio, con l'arrivo di migliaia di lavoratori e pensionati provenienti anche da altre regioni. Dal palco, già restito in Piazza della Repubblica, parleranno Pieruigi Bombardieri, Luigi Sbarra e Maurizio Landini. L'Europa, in una regione di confine come la nostra, sarà anche quest'anno al centro della festa del lavoro, anche se in una chiave diversa rispetto a vent'anni fa. Se allora si festeggiava lo storico allargamento dell'est dell'Unione, oggi il mondo del lavoro guarda l'Europa chiedendole un maggiore protagonismo nella ricostruzione di un futuro, all'insegna della pace e della giustizia sociale. CGL, Cisle e Will lo fanno da Monfalcone, città non solo di confine ma anche simbolo coi suoi cantieri e il suo tessuto demografico e le sue tensioni nelle sfide delle difficoltà e delle contraddizioni con cui deve fare i conti oggi il nostro tessuto economico, occupazionale e sociale. E infatti in piazza coi sindacati ci sarà anche la comunità musulmana e bengalese. Il primo maggio è la festa di tutti i lavoratori. Non è solo un giorno per riposare, ma per stare nelle piazze dove ci si può esprimere, dove si può dire cosa si pensa per il futuro dei nostri figli. Ha detto il leader della comunità, dobbiamo esserci. In particolare quest'anno il primo maggio a Monfalcone è speciale. Non possiamo mancare, dobbiamo esserci tutti, con figli e mogli. Dobbiamo cercare di essere in piazza il primo maggio, per dire che ci siamo anche noi. Dopo aver detto che siamo tutti italiani, tutti monfalconesi, dobbiamo dire che siamo tutti lavoratori con gli stessi diritti e che chiediamo di avere questi diritti. Sfide e difficoltà che riguardano anche la sicurezza. In un paese e in una regione, che anche quest'anno vedono aumentare il numero di infortuni e di morti sul lavoro in crescita sia a Livro Nazionale che in Friuli Venezia Giulia. E proprio sulla sicurezza, alla vigilia della manifestazione che pone l'accento, il segretario regionale della UIL Matteo Zorn. Infortuni gravi e mortali continuano a verificarsi, dichiara, e sono inaccettabili per un paese che si definisce civile. Sulla salute e la sicurezza serve un confronto vero col governo e non soltanto parole di cordoglio. Le proposte della UIL e del sindacato confederale, il governo le conosce. Ci aspettiamo più risposte e fatti concreti. E sempre in merito al primo maggio si è espresso anche il presidente Dubolino di Cov Cooperative Pordenone. Lavoro più etico e dignitoso, sicuro e di qualità. Sentiamo il servizio. Festa dei lavoratori anche per il mondo della cooperazione del Friuli Occidentale. La ricorrenza del primo maggio serve a ricordarci come ogni giorno dobbiamo puntare ad un lavoro più etico, dignitoso, sicuro e di qualità. Questa è la sottolineatura di Fabio Dubolino, neopresidente di Cov Cooperative Pordenone. Cov Cooperative Pordenone è infatti una realtà che racchiude 120 realtà in cui i livelli occupazionali sono anticiclici, permettendo di mantenere, se non anche aumentare, i posti di lavoro anche in periodi di crisi. Basti pensare che dal 2019, passando attraverso pandemia e crisi internazionale, la forza lavoro sul territorio è aumentata del 5%, arrivando a 2.800 occupanti. Sicurezza e formazione, sottolinea Dubolino, sono il cardine per uno sviluppo che non genera i sacchi di rischio per l'incolumità dei lavoratori, che per noi, spesso ma non solo, sono gli stessi soci. Serve mettere l'integrità del lavoratore al centro del pensiero produttivo, fondamentale puntare ad un lavoro sempre più inclusivo. Pensato per tutti è strumento di dignità sociale, sensibilizzando il tessuto imprenditoriale e puntando a percorsi condivisi e di responsabilità sociale. Per le nostre cooperative sociali di tipo B è la loro mission, ma deve essere obiettivo di una comunità. Di tutti e insieme dobbiamo continuare a sperimentare ed attivare modelli innovativi. Importante è l'impegno dell'Europa e della Regione nel sostegno a processi formativi e di reinserimento atti a invertire, o almeno contenere, un processo di abbandono della ricerca di una professione. Da ricordare come le cooperative dei rispettivi settori hanno di recente potuto vedere firmato il nuovo contratto collettivo nazionale per sociale, commercio e servizi. Passi importanti, conclude il Presidente, verso un lavoro sempre più giusto che riconosca il valore delle persone. Il costo del lavoro non deve essere il collo di bottiglia rispetto alla sostenibilità, soprattutto per le cooperative nazionali, che ha bisogno di vedere riconosciuti gli aumenti dalla committenza. È fondamentale per la tenuta del sistema sociosanitario, già duramente provato dalla pandemia, che venga sostenuto e valorizzato. Un milione di firme per la tutela dell'agroalimentare. Assemblee provinciali a Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine per gli 80 anni della Coldiretti. Sentiamo il servizio. Il valore del socio, il nostro motore pulsante, senza il quale Coldiretti non esisterebbe, dice il Direttore regionale Cesare Magalini a Udine Fiere. Una Coldiretti che esiste invece da 80 anni. Un anniversario, sottolinea il presidente regionale Martín Figeli, nella tenuta all'Isneris di San Lorenzo Isontino, che viviamo con orgoglio ed emozione, proiettati però verso le nuove sfide per garantire alla nostra agricoltura un futuro successo. Due dei passaggi di un'intensa giornata organizzata a livello nazionale con la convocazione di 96 assemblee provinciali. Occasione per rilanciare, tra l'altro, la raccolta firme per la proposta di legge europea di iniziativa popolare e difesa del Made in Italy. In Friuli Venezia Giulia, oltre a Gorizia e Udine, i soci di Coldiretti, più di un migliaio nelle quattro province, hanno riempito la sala convegni della Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, con il presidente Matteo Zolin e la sala espositiva della Banca di Credito Cooperativo del Carso. ZK Bank di Opicina, con il presidente di Trieste, Corrado Greco. Presenti i rappresentanti dei giovani, a Udine anche il segretario nazionale Stefano Leporati, delle donne e dei pensionati. Coldiretti regionale, attraverso i suoi presidenti, con Figelia Gorizia, Cristiano Melchior a Udine, Matteo Zolin a Pordenone, Corrado Grado a Trieste, dirigenti e funzionari, ha prestato ai soci i diversi fronti aperti, abolizione del codice doganale sui cibi, etichettatura trasparente sull'origine, aumento dei controlli nei porti e nelle frontiere, con l'obiettivo appunto di raccogliere un milione di firme per l'iniziativa di legge popolare per la salvaguardia dell'agroalimentare del nostro territorio. Nello specifico locale, ha spiegato Magalini, non manca qualche meccanismo da affrontare per quel che riguarda l'organismo pagatore regionale. Uno strumento che è stato pensato per ridurre tempistiche e oneri burocratici a carico delle imprese in accordo con la regione, con la quale comunque ha aggiunto il direttore della Coldiretti Friuli Venezia Giulia, stiamo collaborando con buoni risultati. Ad aprire il dibattito è stato un video di grande impatto emotivo sulla storia della Coldiretti, dalla visione lungimirante del fondatore Paolo Bonomi ai giorni nostri, passando per le altre battaglie combattute e vinte, dall'etichettatura al prezzo del latte, dalla lotta agli OGM alle questioni della fauna selvatica e della carne artificiale, fino a Filiere Italia, il percorso virtuoso che permette ai prodotti alimentari di passare dal campo della fattoria alla tavola del consumatore finale. Quindi, sempre via video, gli interventi del Presidente Nazionale Ettore Prandini e del Segretario Generale Vincenzo Gesmondo. Ribolla Gialla Wine Festival a San Vito al Tagliamento per una seconda edizione tiene aperto un giorno in più. Le aree wine and food sono state ampliate e una nuova selezione enologica e la collaborazione con Pordenone Legge sono al baglio. Ascoltiamo il servizio. Ritorno al Ribolla Gialla Wine Festival a San Vito al Tagliamento, comune con maggiore superficie evitata del Friuli Venezia Giulia e membro delle città del vino. La macchina organizzativa guidata dall'assessorato alla vitalità si è messa in moto e in attesa del programma ufficiale si sa già che ci saranno diverse novità, a partire dalla durata e dagli aspetti legati al fulcro della manifestazione. L'enogastronomia d'eccellenza del territorio. Non solo, la collaborazione con Fondazione Pordenone Legge porterà in città grandi nomi che saranno prossimamente svelati. La prima edizione dello scorso anno, commenta l'assessore della vitalità Andrea Bruscia, è stata molto partecipata e ha promosso San Vito al Tagliamento come punto di attrazione attraverso un concetto vincente, ovvero quello del vino e cibo come cultura. Abbiamo creato un festival incentrato sulla qualità e la ricercatezza dell'offerta sia enogastronomica che culturale, un format fresco come un calice di ribolla gialla, vino simbolo della nostra regione, che è stato molto apprezzato dal pubblico e sulla cui strada vogliamo non solo continuare ma anche investire nuove energie ampliando il progetto. Infatti rispetto alle due giornate dello scorso anno, il festival questa volta sarà sviluppato su tre giorni, con apertura il 31 maggio e proseguimento dell'1 e 2 giugno. Alla prima edizione avevano fatto il loro esordio le casette acquistate dal comune che poi hanno arricchito varie manifestazioni cittadine lungo il corso dell'anno e l'area dedicata al wine and food, aggiunge Bruscia, sarà ampliata con nuovi punti curati da cantine, ristoratori e track food, oltre alle zone confermate dello scorso anno in piazza del popolo, loggia e piazzetta pescheria. Andremo a coprire anche la corte del castello e lo spazio antistante alle poste. Offerte enogastronomiche che si integrano con il resto del programma, sempre incentrato su momenti di coinvolgimento anche per i giovani. L'area si ampia anche perché si aggiungono due giorni di mercatino dell'artigianato in centro storico dedicato al tema della ribolla gialla con decine di espositori. Proprio in questi giorni è stato aperto il bando per l'amministrazione di interesse e la gestione delle casette. C'è tempo fino al 30 aprile. Altro bando aperto è quello delle novità riguardante la selezione enologica dedicata alla ribolla gialla. Durante il festival, sottolinea l'assessore, premeremo le migliori ribolle gialle prodotte dalle cantine del Friuli Venezia Giulia. Una selezione di prestigio del quale insieme a consorsi stiamo curando la promozione presso le aziende vitini-vicole. Sono già diverse le cantine iscritte e nella seconda metà di maggio a Palazzo Rota, sede municipale, avremo le degustazioni della giuria di qualità, la quale sceglierà le migliori ribolle che poi andremo a premiare durante il festival. Infine il programma culturale. Stiamo lavorando con Fondazione Pordenone Legge, conclude Bruscia, che ringrazio per aver intrapreso con noi questa importante collaborazione per degli incontri in piazza con grandi nomi della cultura di tema culinario e non solo. A breve potremo ufficializzare le prime presenze. Termina qui l'edizione odierna del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Ci rivediamo giovedì alle 7, sempre puntuali, non andate via! Vediamo insieme le previsioni. Una depressione di origine atlantica raggiungerà il nord Italia mercoledì, determinando il passaggio di alcuni veloci fronti con venti umidi meridionali. Andiamo nel dettaglio. Mercoledì 1 maggio, cielo nuvoloso con possibili piogge sparse anche temporalesche dal pomeriggio, più probabili e frequenti sui monti. Quota neve a 2200-2400 metri. Sulla costa in mattinata soffierà Borino. Le temperature le minime sulla pianura tra 12 e 16, sulla costa tra 13 e 16 gradi. Le massime sulla pianura tra 23 e 25, sulla costa tra 21 e 24 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 13, a 2000 metri 5 gradi. Giovedì 2, cielo coperto con precipitazioni intense sulle prealpi, generalmente abbondanti su alpi e pianura con quota neve a 2000 metri circa. Sulle costa piogge più moderate con possibili schiarite. Vento moderato da sud sulla costa in quota con raffiche anche sostenute nel pomeriggio. Le temperature le minime sulla pianura tra 11 e 14, sulla costa tra 12 e 15 gradi. Le massime sulla pianura e sulla costa tra 17 e 20 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 8, a 2000 metri 3 gradi. Grazie, a giovedì! 4 Grazie a tutti